Diciamo che come tutte le professioni anche la nostra è stata toccata dall'emergenza. Noi siamo stati fermi solo i due mesi del lockdown totale e poi siamo ripartiti. È chiaro che ci sono state delle modifiche che sono delle modifiche pratiche, giornaliere, nel modo di lavorare. Le più evidenti sono i dispositivi di protezione e dobbiamo stare molto attenti perché noi comunque andiamo in casa delle persone. Molte volte andiamo a visitare appartamenti che sono tuttora abitati. In quel caso è chiaro che dobbiamo avere sia il consenso della persona che lo abita e sia prevedere quei dispositivi di protezione individuale che sono i copriscarpe o similari per tutti quelli che lo vanno a vedere. Queste sono le cose più pratiche. Poi si è evoluto il lavoro. Questo ha portato un'evoluzione del lavoro che era già in corso per motivi naturali, ma c'è stata un'accelerazione. Cosa vuol dire? Che oggi un buon agente immobiliare deve cercare di limitare il numero delle visite. Quindi portare possibilmente persone che siano le più interessate possibile all'immobile avendolo già praticamente visto su internet. E quindi è nato e si è sviluppato tutto il mercato dei tour virtuali, quindi delle fotografie a 360 gradi, interattive e non interattive. I vari portali immobiliari hanno implementato questo tipo di visite che non avevano ancora implementato. ed oggi un agente immobiliare voluto è in grado, prima di portare la persona nell'appartamento, fargli già vedere comodamente da casa sua, bene o male, cosa si deve aspettare dall'immobile che va a vedere. Questo quindi inevitabilmente ha portato a un'accelerazione, diceva lei, di un processo già connaturato nell'evoluzione della vostra professione. Assolutamente. Diciamo che l'agente immobiliare è forse una delle professioni che più è legata alla contemporaneità. Il mercato immobiliare è un mercato che segue l'evoluzione tecnica, per cui oggi non esiste agente immobiliare che non abbia capacità di sviluppare immagini tridimensionali, di sviluppare fotografie di un certo livello. Ormai la pubblicità, l'internet, copre quasi l'80-90% della pubblicità degli agenti immobiliari. Purtroppo il vecchio agente immobiliare che andava sui quotidiani a mettere gli annunci, ormai è una figura dimenticata. Come è cambiato l'accesso invece della clientela, ad esempio, ai vostri uffici? L'accesso agli uffici, come dicevo prima, anche lì cerchiamo di limitarlo, perché purtroppo non tutti gli agenti immobiliari hanno uffici di grosse dimensioni. In particolare noi della FIAIP, della Federazione degli agenti immobiliari professionali, abbiamo pensato di mettere a disposizione la sala in cui stiamo in questo momento a favore degli agenti immobiliari con uffici più piccoli, che non possono magari sviluppare preliminari, compromessi, contratti di affitto con più di 3-4 persone, in modo da dare degli spazi più ampi dove riuscire a svolgere la propria professione. Questo ha dato un impulso anche al valore associativo della vostra professione? Certo, sì. Diciamo che la FIAIP, la nostra associazione, da sempre è conosciuta per la formazione. Anche questa si è evoluta, perché la formazione, da quella che era una formazione di presenza, ormai è diventata una formazione che si sviluppa principalmente sui webinar. Noi solo nell'ultimo mese abbiamo fatto 4 webinar, solo noi di FIAIP Genova, a favore degli associati che dal loro ufficio riescono ad aggiornarsi e c'è bisogno di aggiornarsi. Parliamo invece dall'altro lato, quello della clientela. Avete notato un cambiamento, ad esempio, la prima cosa che mi viene in mente, nella tipologia di immobile che viene ricercato? Assolutamente. Diciamo che, ecco, mentre tutti ci aspettavamo, come molti hanno detto, che la gente si rivolgesse di più agli appartamenti, coi terrazzi, coi giardini, che ci sta, perché comunque erano immobili che non erano richiesti anche prima, cioè non è che prima non fossero scartati. Diciamo che l'evoluzione forse è un po' più sottile. Oggi le domande che ci fanno quando vendono gli appartamenti sono se arriva la fibra. Il fatto di avere lo smart working, di avere tante persone smart working, produce una necessità di avere delle connessioni veloci. Per cui un appartamento che è dotato di una connessione veloce viene preferito ad altri. Altro aspetto che riguarda sempre lo smart working è che la domanda della metratura si sta spostando verso metrature un po' più grandi. Cioè, chi prima aveva le due camere per i bambini, la sua camera, la sala, adesso vede che ha bisogno di uno studio dove poter stare in tranquillità a fare il lavoro che non deve andare a fare in ufficio. E quindi il mercato si sta lentamente riprendendo quelle metrature che prima invece erano di difficile assorbimento. Diciamo che prima avevamo una taglia media più venduta, che era dagli 80 ai 90 metri, adesso passiamo i 100-120 metri. Per quanto riguarda invece la disponibilità di spesa, è evidentemente un periodo in cui molte persone risentono della crisi economica derivante dal Covid. C'è stato un cambiamento in questo senso? Purtroppo, mentre subito dopo l'apertura c'è stata una bella ripresa della domanda di immobili, adesso notiamo una piccola pausa dovuta, secondo me, all'incertezza del domani. Oggi le categorie che possono dirsi tranquille sul loro futuro reddituale non sono tantissime. E quindi le persone che possono rimandare l'acquisito probabilmente lo stanno rimandando. Chi non può rimandarlo, ovviamente, oggi fa delle operazioni a dei prezzi che non erano mai stati visti in città Genova. Oggi si compra delle cifre che sono ulteriormente rese appetibili dal contemporaneo calo del tasso dei mutui. Lo vediamo questo perché contemporaneamente il mercato degli affitti ne è risentito. Oggi chi si rivolge all'affitto è perché non è riuscito ad avere un mutuo, perché altrimenti l'acquisto della casa è sicuramente più favorevole. Lei ha toccato proprio l'ultimo aspetto su cui la volevo richiamare che è quello creditizio. Ovviamente l'acquisto di un immobile spesso coinvolge anche l'intervento di un istituto di credito per l'erogazione di un mutuo. Da questo punto di vista, com'è la situazione in questo momento? La situazione dei mutui rispecchia quella che è l'economia. Diciamo che oggi le banche, da un certo punto di vista, sono incentivate a prestare i soldi perché hanno una buona liquidità e il mercato immobiliare assorbe tanti mutui. Dall'altro aspetto qual è? È che il cliente, come dicevo prima, non dà tutte le garanzie che poteva dare qualche anno fa. Per questo e anche per questi motivi noi abbiamo Ausilia, che è una società di proprietà della FIAIP, che assiste i nostri associati nei mutui e che li aiuta a verificare la fattibilità del mutuo ancora prima di andare a vedere gli appartamenti. In maniera in modo che quando il cliente si muove per comprare casa a monte sa già che la casa effettivamente la può finanziare.